Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Fabio ed oggi andiamo a vedere come eliminare definitivamente i sottotitoli automatici presenti nei nostri video YouTube. Sappiamo tutti che YouTube genera automaticamente dei sottotitoli appena noi pubblichiamo un nostro video, ma molto spesso questi sottotitoli si presentano in maniera errata. Questo perché il motore interno di YouTube codifica tutte le pronunce che noi seguiamo nel nostro video. Quindi ad esempio se noi pronunciamo dei foresterismi, YouTube partendo dalla lingua predefinita del canale, ovvero l'italiano, cerca nel migliore di modi di simulare la nostra pronuncia. Questo può essere un problema soprattutto agli utenti che visualizzano il video. Quindi per ovviare a questo fatto possiamo semplicemente andare nell'editor video di YouTube ed eliminare manualmente il sottotitolo automatico e per fortuna YouTube ci rende disponibile fare questa operazione. Una volta fatto ciò, ovvero eliminata la bozza, non ci rimane per rendere questi sottotitoli completi ed efficaci aggiungere noi stessi manualmente, ovvero i sottotitoli presenti nel nostro video. I sottotitoli possono essere anche tradotti in altri modi, ovvero possiamo chiedere a YouTube stessa di tradurre i nostri video attraverso un professionista, ma ovviamente questa funzione penso che sia a pagamento, non ne sono sicuro perché sinceramente non l'ho potuta provare. Comunque la soluzione migliore è eliminare ogni volta che viene pubblicato un video, rimuovere quelli automatici e di conseguenza aggiungere quelli manuali. Bene, per questo video è tutto, penso che sia stata una cosa utile per chi vorrebbe ottimizzare in tutti i modi il proprio canale YouTube e noi ci vediamo a un prossimo tutorial.